Una bella iniziativa fatta dalla ConfCommercio insieme al Comune di Napoli, decoro, qualità, prodotti buoni, recupero della piazza, decoro, quello che bisogna fare nella nostra città, bene i mercati, noi vogliamo siano tanti ma anche belli, questo è un segnale che va in quella direzione, noi vogliamo puntare sulla qualità, non sempre si riesce a raggiungere il risultato ottimale, che poi dipende pure dall'impegno degli operatori commerciali ed economici, che qua è stato serio, come è serio anche in altre parti, in qualche altra parte si deve migliorare, in qualche altra ancora non ci siamo arrivati, però la direzione è quella giusta, in una città che partecipa sempre di più allo sviluppo del suo territorio. Io ho sempre fatto uso anche personale e familiare dei prodotti a chilometro zero, Mary Naples, in Campania e comunque del suo, anche quando vivevo in Calabria, noi dobbiamo ribaltare questo marchio negativo che ci hanno dato da terra dei fuochi a terra del fuoco, della passione, della qualità e dell'eccellenza, sappiamo che alcuni criminali hanno rovinato piccoli pezzi del nostro territorio, ma ci sono tanti altri pezzi, aree che sono assolutamente puri e tra l'altro con un'imprenditoria sia agricola che commerciale che industriale di grande qualità. Qui c'erano un esempio, ma c'erano tantissimi, io penso che noi non dobbiamo fare altro che utilizzare, consumare, produrre e raccontare le eccellenze che abbiamo in Campania e in città.